Un minuto con Padre Pio dalla chiesa di San Pio da Pietrelcina, oggi qui perché vogliamo raccontarvi attraverso il libro di Padre Marcellino Ia Senzaniro una testimonianza che arriva direttamente da un altro confratello di Padre Pio, da Padre Pellegrino Funicelli. Infatti qual era questo impegno, questo impegno che gli portava a volte anche tanta sofferenza, ecco questo lavoro continuo, questa missione importante, lo ricordiamo spesso, la missione di salvare le anime. Ecco racconta Padre Marcellino che il suo luogo privilegiato per porre in atto questa opera era il confessionale. Quando muove per recarvisi teso ad un tale compito si mostra sempre raccolto, infatti lo vediamo dalle foto, dalle immagini, dai video, pensoso, non gradisce fermate o soste, non gradisce incontrare persone, proprio in quel momento in cui lui si reca verso il confessionale e se capita nelle risposte è rapido, prega e a chi vedendolo sofferente o prostrato dalla fatica lo invita a risparmiarsi alquanto e dice bisogna lavorare. La confessione prima è un lavoro, poi quando non ci si sente è un sacrificio. Sorprendente è quando proprio Padre Pio risponde a Padre Tarcisio Zullo che lo esorta, giustamente vedendolo sofferente, affaticato, a fermarsi, a riposarsi un po'. Ma Padre Pio risponde, come si fa a non lavorare? L'ozio mi ammazza. Ma perché questa applicazione intensa, assidua, eroica, il più delle volte che umanamente parlando si direbbe accanimento? Si chiede Padre Marcellino. Padre Pio spesso voleva qualificare la sua missione anche con l'espressione che conosciamo benissimo, strappare le anime a Satana, vedeva quindi la sua opera inserita in un continuo misurarsi con lo spirito del male a cui doveva in ogni modo opporsi per togliere dalle sue grinfie i fratelli d'esilio. Padre Pio a questa lotta gli era stata già preenunciata in una visione avuta quando lui era giovane, prima che lui entrasse nel convento dei frati minori Cappuccini a Morcone nel 1903. Infatti lui racconta nell'epistolario numero uno, poco prima di lasciare il mondo, consacrarmi al Signore, vide un uomo maestoso di bellezza splendente come il sole che dopo averlo condotto in una spaziosissima campagna dove era una gran moltitudine di uomini divisi in due grandi gruppi, volti bellissimi da una parte, ombre oscure dall'altra, gli mostrò un essere dall'ordido aspetto, di smisurata altezza, da toccare con la fronte le nuvole e gli disse tu con questo ti devi e ti conviene azzuffarti. Fatti animo, entra fiducioso nella lotta, avanzati coraggiosamente che io ti sarò appresso, io ti aiuterò, io non permetterò che egli ti abbatta. In cambio della vittoria, racconta ancora Padre Pio di questa visione, che ne riporterai, io ti regalerò una splendida corona che ti freggerà la fronte. Alla luce dunque di questa visione bisogna, racconta Padre Marcellino, anche leggere quanto è stata l'attività apostolica di Padre Pio, l'urgenza di realizzare quel disegno che il cielo gli aveva mostrato ancora prima che egli fosse in grado così di operare, spiega così il suo zelo, la determinazione, la costanza dell'impegno, la premura nell'agire. E allora qui il racconto di Padre Pellegrino in una conferenza che dopo aver detto del cambiamento dell'ambiente di Padre Pio non se ne poteva fare a meno, quindi era d'obbligo, cambiamento in meglio, fa capire che il penitente davanti a questo straordinario confessore racconta a Padre Marcellino che egli si era scelto, muovendosi magari da lontano e facendo così anche lunga attesa, doveva operare una scelta precisa e fondamentale, ovvero stare con Dio o stare con Satana. A questo doveva tendere il suo incontro con Padre Pio. Allora aggiunge proprio Padre Pellegrino, vado sul virgolettato, Padre Pio parlando di cambiamento verso il bene lo definiva angelico spirito di adattamento, al contrario il volgersi verso il male lo chiamava diabolico spirito, cioè che faceva stare o tendere dalla parte del demonio. E questo per Padre Pio era un'apostasia, cioè il rinnegamento di Dio.